Bella a tutti ragazzulli e benvenuti in questo nuovo video, ebbene si signori sono Maullo941 e siamo tornati sul canale per l'ennesima volta, ci riproviamo a ripartire signori, mi raccomando vi aspetto, datemi il vostro affetto, fatemi capire se volete altri video, fatemi capire se vogliamo ripartire su questo canale, io eventualmente ci sono signori, allora siamo tornati qui sul canale, io sono Maullo941, vi ringrazio per essere passati, vi ringrazio se vi iscrivete, se lasciate like e se lasciate tanti commenti, siamo su FIFA23 signori, cosa iniziamo per ripartire sul canale, per la rinascita signori, qual è il video migliore, la serie migliore da iniziare, proprio che dia quel sentimento di rinascita signori, come avete letto dal titolo, iniziamo la modalità carriera giocatore con il mitico Ballotelli signori, ebbene si, ebbene si, chi può ambire a una rinascita maggiore di lui signori, allora nuova carriera e noi ci andremo a fare la rinascita del nostro carissimo Ballotelli, usiamo le rose attuali perché non sono collegato internet, quindi nessun aggiornamento possibile, ma se non ricordo male, se non ricordo male, giocatore reale, il nostro carissimo Ballotelli si trova in Turchia in questo momento, perché purtroppo non essendoci l'aggiornamento, non è passato al Sion, ma dovrebbe essere alla Dana Demisport con Vincenzino Montella signori, ebbene si, ebbene si, eccolo qua, il nostro carissimo Mario Ballotelli, ebbene, quanti cavolo di anni, ha 31 anni signori, abbiamo per lo più 4 anni per la rinascita? Penso di si, penso di si, 4 anni buoni, anche se sarà in caduta terribile, ma noi ce ne fattiamo altamente signori, andiamo con Ballotelli, decisi, vai avanti, avanti, ok, signori, voglio iniziare con Ballotelli, la rinascita, lo riporteremo in serie A, e sarà nuovamente un giocatore decisivo, torneremo anche in nazionale signori, Allora, la difficoltà io direi di andare con dilettante, dilettante penso che sia più che buono, minuti mettiamo 3 minuti, tanto signori non ci giocheremo le partite, perché sennò la cosa sarà troppo lunga, ci giocheremo solamente i match clou in attacco, quindi proprio la partita sarà decisa dal computer, noi potremo solamente sfruttare quelle poche occasioni che capiteranno a Ballotelli, Quindi sempre che lui ce le faccia fare, se non ce le fa fare, so cazzi signori, vedremo la possibilità di giocare la stagione, no, perché penso che la Dama Sport non sia in nessuna competizione, ma noi lo mettiamo attivo, ci andiamo a giocare pure le competizioni, ma chi se ne frega, cambio di proprietà, elastico, offerte nazionali, finestra di mercato, ok, allora l'obiettivo è, signori, farci una prima stagione qui con la Dama, con la Dama Adena Sport, come cavolo si chiama, e dopo che verso la fine stagione chiedere il trasferimento e andare via dalla Turchia, Cercare la rinascita del ballo, quindi fare una buona stagione quest'anno e cercare di ritornare il più velocemente possibile nei campionati che spettano a Ballotelli, signori, ebbene sì, ci proveremo, ci proveremo, ok, ci siamo, andiamo a salvare il nostro, fare il nostro salvataggio, io ho iniziato una carriera allenatore con il Palermo, signori, ma se tutto va bene ne inizieremo un'altra anche qui su Youtube, e che qualcuno ce la mandi buona, signori, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, siamo carichi, allora, decisioni che questa stagione puoi svolgere una nuova attività che difende il tuo stile di vita al di fuori dal campo, shopping, investimenti, premi, ok, va bene, ok, Allora, decisioni, Montella, però siamo dei sostituti, abbiamo 250.000 euro, finanze e viaggi in pullman, che cazzo devo fare? Acquisto un materasso ibrido, fondi 10.000, punti individualista, punti generoso, acquisto un box tribuna, 15.000, iscriviti a un corso di PR, no? Acquista camicie su misura e cravate, 15.000 euro per delle camicie e delle cravate, ordino un vestito firmato 25.000 euro, dona denaro ai rifugi per animali, ok, acquisto impianto, costruisce una piscina, no, allora dai, doniamo i soldi ai cani, attività completata, ok, dai, punti trascinatore 50.000, 50.000, E poi, ah, questo è un negozio, ne potevo fare solo uno, no, decisioni invece che vuol dire, saluto i tuoi compagni, fai sapere a tutti, vai, sì, salutiamo i compagni Fai sapere a tutti che sei pronto, punti individuali, motivi e compagni, livello personale, oggi si fa solo se motivi e compagni, dai, nessun livello, requisiti non soddisfatti Devo avere 20 punti di individualista, forse, sì, e non ce li abbiamo, allora andiamo un attimo nel negozio, posso prendere punti individualista, non voglio, voglio finanziare il pullman No, erano punti trascinatore questi, mannaggia, ho sbagliato, porca miseria, punti trascinatore, punti individualista, mi sta a mangiare tutti i soldi Acquistiamo il materasso, dai, dai, individualista, no, 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 trascinatore, punti individualista, dai, fai, sì, dai, così, attività completa Compriamoci il materasso, dai, così dormiamo bene, così il balotelli pensa solo a dormire la sera e non ad altre cose Ora, torniamo in decisioni, sì, perfetto, completato, sono contento, torniamo un attimo in, investimenti non lo posso aprire, no Decisioni, saluta, requisiti non soddisfatti, ma perché? 20 punti individualisti, ce li ho 20 punti individualisti, punti generoso, nessun livello, nessun livello, nessun livello, va bene, non abbiamo livelli E, indietro Il tuo posto in squadra, non entro la donazione del tecchio, non ho portato per il posto, va bene Oh, eh, va bene, questo l'abbiamo capito, va, mi sono rotto le scatole Oh, un punto Cambia visuale Che cazzo la devo fare? Allora, aspettate, sono completamente confuso Individualista, rigori e punizioni, trascinatore, più uno, più uno, più uno, generoso, più uno, più uno, più uno, ok Di là non ci posso più andare, no, devo tornare indietro Per ora siamo a livello 1 Punti personalità 150, va bene Non ci sto capendo niente, lo capiremo andando avanti nel gioco Oh, che bellino il nostro balotelli, signori, che carino Allora, capiamo un attimo, avanza classifica, allenamento, attività, notizie, il mio calciatore Personalità, notifiche, la mia carriera, ab rosa, stagione, ok Ok, è personale, perfetto Il mio calciatore che possiamo fare? Personalità, vado a finire nuovamente la schermatina di prima E infatti, ok Ragazzi, se avete dei suggerimenti su questa carriera O magari qualcosa che mi sto perdendo, ditemelo Così riusciamo a modificare la situazione Ok, avanza Zio, dovresti un attimino allenarti però Così, giusto per capire Sei un calciatore, dovresti un attimino allenarti Perché se non ti alleni, famo schifo Allenamento Giorni rimasti sei, sessioni disponibili cinque Ok, ok, ok Perfetto Il discorso che io questa la devo andare a fare tutte io, non è vero? Aggiungi Aggiungi Scenari offensivi Allora Esercizio consigliato Facile Esercizio consigliato Va bene, dai Andiamo ad allenarci su questo No Sbagliato Andiamo ad allenarci su Passaggi Per forza Seguenza di passaggi Bravo Balotelli Poi andiamo ad allenarci ancora su Direi passaggi Che possiamo fare Colpi di testa difficili Sessioni di cross No Colpi di testa difficili Balotelli vuole migliorare anche a colpire la palla di testa Tiri Non mi fa fare nulla Tiri, no Passaggi mi fa fare qualcosa No Calci piazzati mi fa fare qualcosa Sì Punizioni Punizioni Diretto esperto Perfetto E l'ultimo slot che abbiamo Ci andiamo a mettere Che è il gran rotto di scatole Possiamo fare solo difesa Muro insuperabile Il nostro Balotelli è muro insuperabile Allora Fatemi capire una cosa Se io faccio Simula tutto Avrei una simulazione al più alto livello Raggiunto Poi procedere Avanti Quindi io non avendo dei livelli Ho preso D Tutto Grande Così Balotelli Parte alla grande Mitico Balotelli Ottimo Va bene Abbiamo fatto cagare assolutamente Quindi Gli allenamenti Mi li devo andare a fare Assumi un social media Producer Pronti Tercinatore 50 Mi ha sbloccato anche gli investimenti Stiamo calmi Disponibili Disponibili Finanze Purnas Finanze Purnas Questi erano quelli di prima Mi ha sbloccato cose nuove Però Assumi un media Assumi uno stilista personale Assumi un insegnante di lingua E il Balotelli di lingua Ci sa andare Il Balotelli di lingua Ci va sempre Quindi Assumiamolo Assumi un assistente Assumi un assistente E questo Abbiamo compratato pure Perfetto Assumi un assistente Va bene Decisioni Non mi fa fare nulla Requisiti Non soddisfatti Il nuovo stipendio Chiedo di aumentare l'ingaggio No Volevo salutare i compagni Non me lo continuo a fare Niente Siamo antipatici Siamo antipatici Non possiamo salutare i nostri compagni Allora Investimenti Team Sport App per cellulare Microfinanza Fondi 100 Rischio basso Durata 45 giorni Linea di abbigliamento Fondi 150 Non ce l'abbiamo 45 Requisiti Non soddisfatti No Facciamo una cosa Quello basso Fondi 50 Rischio basso Durata un team sport Che non so Ricavi stimati 58 Cioè ce ne investiamo 50 E ne ricavo 58 Bella cagata Va bene Dai Facciamo il team sport Investiamo Sì In corso 30 giorni al termine Perfetto Ci siamo mangiati tutto il possibile Avanziamo Ci sto capendo poco e niente Però questa è una prima È una prima Così Acchitto Un primo tentativo di capirci Signori Non è Non è niente di fattivo Iniziano le amichevoli Trofeo delle stelle Perfetto Di Bala è passata alla Roma Ok Gioca partita Vediamo di che morte morire Signori Gioca una partita Azioni salienti Vai al risultato Perfetto Vediamo se Mi fa fare Gioca a momenti crude La squadra Controlla Balotelli Perfetto Signori Al sessantesimo È entrato Balotelli Siamo entrati al sessantatresimo Signori Al sessantatresimo Damose Damose signori Lock bonus Vabbè Sì Non ci ho capito niente Vediamo se mi fa fare Solo i momenti crude Con Balotelli O se mi fa giocare Tutta la partita Con Balotelli Sono tumaroni Vediamo un attino Come si svolge La situazione Signori Cerchiamo di capire Questi Questi attimi cruciali Della rinascita Del Balotelli Esce al 0 Per entrare lo 0 Grande Stima per Balotelli Il nostro numero 0 Volazione della partita 6 e mezzo Completa passaggi 5 Goll e assist Segna Dove serve almeno Un gol o un assist Va bene Ci proviamo Do sto Do sto Che stiamo a fare 0 a 0 Ok Se un attimo Non ringredire Perfetto Sessantatresimo Calcio d'angolo per loro Il Balotelli è lì Mi fa giocare Tutta la partita Io ve lo faccio I momenti di club Con il ballo Subito fuori Tra il Balotelli Dai riparti Dai riparti Dagli una testata volante Mi fa giocare Tutta la partita No mi fa giocare I momenti di club Bello Così mi piace Così mi piace Dai così Dove sta il Balotelli Stiamo 0 a 0 Dai 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 Sono casatissimo Signori Balotelli E' lentissimo Il ballo Il ballo Il ballo Il ballo Guarda come trova l'inserimento Guarda come trova il movimento al centro Dammi la palla Dammi la palla Dammi la palla Dammi la palla Grande Pallotelli Guardano in profondità Bello così Buone il passaggio Mamma mia che è più distorti Guarda Guardami 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 Buuuu Mannaggia Rigore Calma signori Allora io ho imparato Che i rigori si tirano centrali Signori I rigori si tirano centrali Perché se tu li indirizzi Il portiere te la para sempre Rigore centrale Goll assicurato Grande Balotelli E' tornato Super Mario signori E' tornato Super Mario Che botta di culo Non so se si può dire Vinciamo una 0 con lo Spezia Non ci ho capito niente Ma abbiamo segnato al novantesimo Con Balotelli Va bene così Va bene così Signori Va benissimo così Di lusso Di lusso Gallia così Sul rigore E' Balotelli Deve fare il minimo Deve fare il minimo Per dare il massimo E' va bene così Avanti Non so se abbiamo completato Tutti gli obiettivi Però L'importante era vincere Signori E' la prima amichevole Ce la siamo portati A casa Ok Punti personalità Votazione tecnico Più 5 Va bene Guardalo il contenito Del nostro Balot Montellino Montellino Montella Abbiamo fatto contento Montella Nella nostra prima uscita Amichevole Entrati in panchina Entrati dalla panchina Abbiamo fatto tanta roba Andiamo avanti Signori Altra amichevole Altro giro Altra corsa Dai così Perchè la potenza Montella sta calando Che cazzo Sarò la vuoi Montellino mio Gioca partita Damose 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 No Simulazione veloce Personalità Non mi fa giocare No Montella mio Montella Non andiamo bene Non andiamo bene così Però Siamo un'azione veloce Abbiamo perso Non mi fai giocare Montella Non andiamo bene così Me ne vado Cioè Me ne vado Non va bene così Con lo spezia Entro Ti segno E te non mi fai giocare Non va bene Non va bene Scusate Ma quindi Gli allenamenti Devo andare a rifare Carica sessione precedente Perfetto Allora signori Per ora li facciamo così Veloci Brutti E indolore Formazione Di Guarda quanto è salita La valutazione Di Vincenzino Montella Prendendo delle D Pensa se piamo delle A Se piamo delle A Distruggiamo tutto Ah no Ma già c'è la prima partita La Che rottrodisca Io voglio fare gli allenamenti Siamo partiti così subito Si parte così subito Col campionato Decisi Momenti Clu Con Balotelli Dai così Con l'Union Berlino Dai Ma scusami Sta partendo il campionato subito Ma noi ci stiamo a giocare Ancora il torneo amichevole Ma che cazzo Sta a fare Sto coso Ci stiamo a giocare Il Va bene Dettagli Dettagli Non 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 Facciamo Troppe domande Momenti Clu Signori Con il nostro Montella Con il nostro Balotelli Attenzione Attenzione Balotelli 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 Quindicesimo Partiamo in contropiede La dama La dama parte in contropiede Attenzione Attenzione Facciamoci vedere Facciamoci vedere Guardami 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 Così Vai Balotelli 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 La piazza Ma porca miseria Ma porca Grande Balotelli Così mi piace Dai 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 Calma Stiamo ancora Zero Zero Guardami 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 Ti vedo Ti vedo Bellissimo Signori Mannaggia Cosa No Stiamo a perdere Una a zero Ma porca Miseria Avevamo trovato Una cosa Bellissima Mannaggia Abbiamo dei compagni Che hanno dei piedi Storti Grande Balotelli Bellissimo Corri Scemo Ma doveva Corre Stiamo a perdere Ancora Una a zero Balotelli Do sta Ma sono l'unica Punta Con l'attaccante Centrale Va bene Guardami 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 Inserisci Inserisci Bravissimo Gli ha creato Lo spazio E Mannaggia Fatta la cacata Signori Mannaggia Non l'abbiamo persa Questa Eh vabbè Eh vabbè Signori Ci abbiamo provato Due belle azioni Sia con Balotelli Sia un bel Filtrante Centrale Ma l'abbiamo Ma l'abbiamo presa In tacco C'è 2 a 0 L'abbiamo perso Aieieie 2 a 0 E pesante 2 a 0 E pesantuccio 2 a 0 E pesantuccio E Montella Non ci mette più Come titolari Mannaggia La parca Di una paletta Ambriaca Va bene Ok signori Allora Io per oggi Mi fermo qua Signori Primo video Primo video Di tornati sul canale Il rinascere del canale Il rinascere del balotelli Ci saranno altri video Eh Supportatemi signori Vi ringrazio per i like Per i commenti E per i suggerimenti Iscrivetevi E noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per altri video Altri giochi Bella raga Ciao Ciao